Ciao a tutti, ci troviamo a Magreta. Oggi vi farò scoprire un appartamento trilocale con balcone e garage. Andiamo a scoprirlo insieme. Vi saluto dal balcone di questo appartamento. Vi ricordo che c'è già la predisposizione per l'aria condizionata, quindi se vi interessa vederlo venite a trovarci in Agenzia Casinalbu oppure chiamateci al numero che compare qui sotto. Ciao!